L'idea di Women for Expo mi è sembrata automatica e mi è venuta automatica quando da Ministro del Commercio Internazionale del governo Prodi facciamo tutta la campagna per la candidatura di Milano, che non fu una campagna semplice, ma finalmente Milano vinse. Mi pareva così automatico che trattandosi di nutrizione del pianeta, di cibo, le donne dovessero avere un ruolo da protagonista in questa, ma non è solamente l'immaginario collettivo, ognuno evidentemente lo associa, è anche guardare realtà più evidenti, per esempio le più grandi e le più innovative start up della catena alimentare italiana sono gestite da donne, o per esempio il 70% delle lavoratrici agricole africane sono donne. E quindi dalla storia, poi cibo e donne è stato parte della nostra cultura, adesso non è che bisogna scomodare il riso amaro, ma insomma fa parte di un immaginario che va anche rinnovato, perché appunto non è solo la nostra storia, la nostra cultura, la cultura del mondo per la verità, ma è anche un protagonismo dinamico, innovativo nella ricerca, per esempio, del nostro presente e del nostro futuro. Letizia Moratti all'epoca abbracciò questo progetto con entusiasmo e anche la Presidente Bracco, poi successe dell'Expo tutte le cose che sappiamo, cambiamenti di giunte, di governo, insomma, tra alti e bassi era finito nel dimenticatoio. Poi da Ministro degli Estri mi sono trovata in mano uno strumento invece possibile per riattivare anche all'ultimo minuto questo progetto e ho riprovato a farlo. E alla fine tra tanti bassi e qualche alto, grazie alla testardaggine di poche per la verità, ma anche del sostegno che poi abbiamo avuto, ci siamo. e questo progetto ha tre gambe. C'è la parte Women for Expo International, che è quello di cui mi occupo in particolare, che insieme con Marta Dassù, che è la Presidente Operativa, è di una dedizione, di una bravura davvero straordinaria. È un gruppetto di altre a metà tempo, da Rossella Citterio, insomma, però molto determinate. Poi c'è la parte Women for Expo Italia, diciamo, che fa capo alla Presidente Bracco e al Padiglione Italiana e poi c'è la parte che fa capo alla Fondazione Mondadori per la parte culturale, la parte eventi, la parte diciamo anche artistica di tutto questo progetto. Io mi occupo di quella parte internazionale e devo dire che davvero sta, mi pare, riscoprendo una serie di risposte molto entusiaste e positive da donne leader del mondo, da associazioni. Insomma, la settimana che inizia il 29 giugno, i dieci giorni, tutte e due le settimane, saranno veramente piene di eventi e anche di dibattiti molto interessanti, in cui abbiamo deciso anche di affrontare temi molto spinosi e che in qualche modo, non so perché non vogliamo più discutere, dagli OGM per esempio, al diverso modo, perché poi ogni donna ha un suo progetto di vita, per nostra fortuna siamo diverse, non siamo una categoria, non siamo un sindacato, non siamo una corporazione e abbiamo deciso di non nascondere queste nostre diversità. Una delle testimonie, per esempio, di Sarandana Diva con cui io condivido poco, per esempio, ma mi sembra utile esaltare queste differenze e le diversi punti di vista, perché il mondo nella sua complessità questo è e noi ne facciamo parte. Ma dopo varie consultazioni con tutti i continenti, con le agenzie delle Nazioni Unite, abbiamo deciso di focalizzare la parte Women for Expo International sullo spreco del cibo, lo spreco dovuto a mille ragioni, per esempio esistono entri paesi che consumano fresco, che non hanno la tecnologia del freddo per mantenere o di conservare, in tiri paesi che non sanno processare la frutta e quindi non ne fanno né marmellate né sciroppi, altri paesi in cui non riescono a stabilizzare neanche il prezzo del riso, non avendo i silos adeguati per mantenerlo, per cui nel momento dell'offerta è evidente che l'offerta di riso fa crollare i prezzi e dopo tre mesi questo riso invece, che poi è un prodotto deperibile se non opportunamente conservato, è chiaro che sale di prezzo in modo spaventoso. Poi ci sono invece gli sprechi delle società ricche, che sono gli sprechi di cui non ci rendiamo neanche conto, che sono non solo lo spreco del cibo e degli imballaggi che vanno insieme, adesso per esempio abbiamo la mania del monodose, non ho niente in contrario dal punto di vista ideologico, però stiamo attenti perché ogni packaging di una monodose o è riciclabile oppure stiamo producendo rifiuti a non finire. Quindi ci sono vari aspetti di perdita di cibo, molto spesso per mancanza di tecnologie adeguate, ma è chiaro che c'è un problema di fondo e che noi con la crescita demografica che c'è nel mondo, Europa esclusa, stiamo avviandoci verso un periodo di scarsità e di scarsità di cibo. E non è che si dice, vabbè, no, non è vero, basta distribuirlo meglio, invece un prospero. Un'equa distribuzione del cibo implica una politica, è una politica di lungo corso. Però potenziale, per esempio, il ruolo femminile aiuta, in grandissime parti africane le donne poi non hanno accesso al credito oppure non hanno il diritto di proprietà. sono lavoratrici ma senza poi avere la possibilità di assumere delle responsabilità in questo campo. Quindi, insomma, dalla scarsa produttività alla scarsità a cui dovremmo far fronte. Ed è anche la scarsità dell'acqua perché non si produce cibo senza acqua. Ed è chiaro che l'acqua invece è ormai un bene primario sempre più raro e peraltro sempre più sprecato. Per cui questa alliance parte dalla carta di Milano che sarà più generale e toccherà vari temi. Questa alleanza globale delle donne l'abbiamo voluta dedicare in particolare allo spreco del cibo e alla perdita del cibo con tutti i problemi che questo comporta come soluzioni che vanno dai diritti legali il diritto di proprietà, tecnologie diverse e più adeguate per interi continenti. Siamo al buon punto. Abbiamo fatto una proposta al BIE che il Women for Expo diventi una parte strutturale delle prossime esposizioni mondiali e abbiamo ricevuto una risposta molto positiva. si tratta adesso di perfezionare la pratica, il governo italiano deve presentare una risoluzione che non avrà grandi ostacoli e quindi stiamo già tutte pensando a Dubai 2020 che è un altro diciamo grande evento e anche in un paese molto particolare da questo punto di vista. passando anche per gli altri expo regionali, ne è previsto uno a Astana che speriamo di poter utilizzare e uno in Turchia, altro paese che forse di una ridiscussione al femminile può approfittare. Grazie.